La pasta di mandorla è utilizzata Per ricoprire dolci, modellaggio di soggetti, dolci da forno e altro ancora L'ingrediente principale? La mandorla Poi zucchero, sciroppo di glucosio, acqua ed eventuale bacca di vaniglia e un po' di buccia di limone Il metodo è rivoluzionario Tutti insieme gli ingredienti in una sola volta Dopo pochi minuti otterremo una pasta di mandorla Che può essere da un 10% a un 65% di mandorla Vi svelo un segreto Un pizzico di creatività